Da cosa nasce questa idea? L'idea nasce perché amo il territorio ed è una promozione del territorio. Io non ritengo che Acqua di Gaeta sia un brand commerciale, ma un brand che deve promuovere questa terra in tutte le sue manifestazioni. Ecco perché Acqua di Gaeta non si troverà, e non l'ho messo dal 6 aprile da quando già siamo stati qui a presentare il profumo d'ambiente, non l'abbiamo trovato in nessuna attività commerciale. È stata abbracciata la mia idea di promozione del territorio dal sindaco Mitrano, da Campora nel terziario donna, con commercio da posto. Acqua di Gaeta lo troviamo nelle strutture alberghiere, nel BNB, quindi tutte le strutture che rappresentano il territorio a livello turistico. Il Parfum è nato oggi ed è rappresentato oggi per richiesta delle mille persone che ho incontrato in questi quattro mesi. Mi è stata richiesta di fare una profumazione d'ambiente che abbia le stesse note di quella di la fragranza del territorio, quindi questo parfum ha più del 22% di oli essenziali ed è un prodotto naturale realizzato con tutte le istanze biologiche. Un messaggio sintetico per chi ci ascolta, perché scegliere acqua di Gaeta? Scegliere perché parla del colpo di Gaeta, perché ricorda il mare e il profumo è quello della macchia ambiterranea.